Grazie per aver guardato il video. Buon varie. Grazie. 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 adesso inizio a scapparmi di brutto su overwatch ma non se la streaming scatta proprio il gioco almeno me l'ha mai fatto oppure cioè dimmi cosa ti dice e cosa ti fa allora io prima stavo giocando in live vado a fare un replay su overwatch non me l'ha mai fatto anche in streaming e in pratica stavo giocando dovrà finire a scapparmi tutto non riesce a far nulla ascolta una cosa io ho risolto il problema della lag un po di tempo fa ho fatto mi davano dei problemi nelle memorie quindi l'avevo scambiate l'una con l'altra per vedere se mi rompevano i coglioni di meno vabbè comunque siamo 16 giga alla fine della fiera giocavo con 4 giga soli le altre diciamo 12 giga non ce l'avevo cioè praticamente non me ne veniva considerate perché erano inserite male dentro lo risotto ieri ho sistemato anzi l'altro ieri ho sistemato adesso è perfetto verifica verifica quanta ram c'hai in utilizzo e soprattutto verifica se te lo da dal bios tutto per bene cioè nel senso se nel bios ti vengono considerati se no vuol dire che la tua ram perché c'è un programma di windows che viene lanciata all'inizio dove se c'ha dei bacchi praticamente quei bacchi non vengono letti e quindi te c'hai meno ram a tua disposizione capito anche se ti dice che c'hai 4 giga però diciamo che un giga c'ha dei bug allora in quel caso lì un giga lì viene tolto quindi devi stare attento anche per quello adesso non so quanta io ho sentito che erano gli scattoni c'è una paura aspetta mi senti male sì ma gioco pure male allora verifica momentino la ram che c'hai a disposizione e quanta c'hai fai gestione risorse fai presto a vederla quanta ram hai disposizione e nello stesso tempo guarda dei programmi per vedere se la ram è pulita oppure no o se c'ha dei problemi ci sono in giro comunque quindi allora contro volte cancer fai gestione risorse e vedi quanta ram è utilizzata sai fai presto a vedere e poi guarda moltino dei programmi c'è tu un pochino è esatto devi stare attento a quello perché si vede che c'è da loro come memonia c'ho tra l'altro 58 per cento sono penso 2 giga ma in totale quanto quanta ram c'hai in totale quanta ram c'hai 6 giga ma anche la gente non ricordo la vedi anche gestione risorse ti dice massima ram utilizzata cioè massima RAM, questo utilizzata questo la dice anche lì ah aspetta allora prestazione intanto attaccio più ah vabbè vabbè è normale devo fare devo fare lo streaming pensa che io con 4 giga streammavo vabbè che andava male il gioco un impatto di avvio no no dove c'hai aspetta perché adesso io sono in gioco un casino mi devi dare un secondo perché sono in liga quindi ah eh sì sono in classificata quindi devo vedere un momentino oh vincolo oh c'è qualcuno che mi sto stando grazie paolo 435 grazie grazie mille grazie 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 tratta Evviva Dai che palle Non riesco a far mai nulla Non mi voglio fare Quello stai una notte Dovevo tutto bloccare Come giuro? Non è che ci ha aperto Di nuovo Overwatch No Invito un'altra persona Sì sì E che palle sta crami di merda Che palle Oh ma sta un po' Forse sono un super soldier Forse ce l'ho fatta Bravo Comunque verifica sempre la ramba Perché è un'inculata totale Io me ne sono accorto troppo tardi Eh oddio Insomma Anzi è peggio di prima O provo a riavviare un attimo il gioco Riavvia il proprio computer Allora Allora Riavvia un attimo il pc E ritorno subito Allora Allora Io non so veramente Che stasera E' un'altra cosa Che dolore Che stasera Che stasera E' un attimo il nostro E' un attimo il nostro Come fai ad avere così Tanti spettatori Eh? Come fai ad una volta Avere tutti Tanti spettatori Che fan paura Eh visto eh Io te l'ho detto T'ho chiesto anche Se mi mettevi come hosting Così almeno Aumentavo anche il numero di spettatori E forse anche di persone che Oh guarda 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 Ora mi fai venire un po' di dubbi Vabbè riavvio il computer A dopo La prada è caduta Come fai Ho Grazie a tutti cazzo 4d30 oh mamma mia Oh, ecco, metti di nuovo Con 5 sputtatori Allora spero che funzioni Ah, 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 ah Sì, sono tanti a pagina La telefonata è proprio quando non serve Ma perché quando sono in Lega, perché quando sono in Lega così Sì, sono tanti a pagina La misura è colpa I vostri nemici desiderano il mio potere E lo avranno E la nostra rovina è prossima Questo è il più docente Oh, tre animo per avviarsi Oh, 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 get it out, get it out Porca merda È telefonata Cominci Gatto, rega Per mezzo di buono che è emocionante Ok Cazzo di cromi di merda Uno di uno La cazzo di subito Oh, forse Ho risolto Ho risolto E' un po' Sì Ma D'ora E' un po' Sì E' un po' E' un po' Vaffanculo, fanculo e fanculo Oggi non è giorno da giocare Trista Ah Grazie! Ok, va bene, va bene. Ha fatto la scelta per sbagliare. Ciao, Nico. Oh, ciao. Vita e morte Un ciclo ininterrotto Il potere di questo reame sarà mio E' un'impegno E' un'impegno E' un'impegno la vittoria meritata vai buono dai porto pure io giacra oh 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 Cazzo Merda vabbè Un round però No eh si inizia a bloccarsi No è andato bene finora Max point Cos'è detto max point? E' ovvio C'è Vinci per forza Ora fa il rimonto Vedrai che fa il rimonto Mi rimonta Mi rimonta Si 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 vedrai Sapevo che sto favorita Sapevo Oh 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 Boom GG Ah Buon bravo Ha fatta la La piotti G Bravo Buon bravo 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 Ehm 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 Il penultimo Il terzo ultimo Mi ha dato il filo da forza Bravo 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 Mi è piaciuto Bravo 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 BaGo se riuscì mi ha toccato le gambe si se riuscì mi ha toccato strescì il salto lì no ooo we don't make that booo abbiamo quasi perso e abbiamo vinto invece buon ottimo cazzo non mi ha messo neanche tra i migliori ma vaffanculo bene 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 stiamo andando bene qui in questa partita sto vincendo tutti uno di uno misteriosi ora andiamo un po' con Ana no non si chiama Ana si chiama Anal uh 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 fa un po' oh eh si eh è normale se ti salta addosso è finita quindi è normale coperto poi ho sbagliato io con Ana non mi ricordo quasi più nulla dai era Ripper lui sapevo che aveva Ripper che mambo aspetta qui si chiama l'altro lato e ci fai all'altro lato e qui si chiama l'altro lato Cazzo no Avevo un pelo di vita Porca puttana Porca troia Che nervoso Quello velo è questo Venti metri come me Vedere ora lui ci parto sul d'acqua Cazzo ma quanto lo sapevo Quanto è nabbo Quanto cazzo è nabbo Eh bambino ci deve scurare Sei un nabbo di merda Sei un nabbo di merda Vedo che ti stai incazzando Veramente pesantemente Si ora porto anche io soldato Fanculo Quanto cazzo è nabbo questo Che si porti i soldati più semplici Io mi porto i più difficili Per avere un po' di competizione No, lui si porta Si porta colosso di usti Si porta colosso di usti Chi è che lo si scrive su usti? Chi è? la crociata chiama no ora ora faccio anche io il nabbo oh merda come si scrive in inglese prendite oh cattroia ma cazzo ci chiamava il corso nessuno può fermarmi nabbo del cazzo ma fatti schifo da solo continuava a saltellare a saltellare guarda vaffanculo perché io con questi nabbi del genere non ti gioco fanculo ma va a fanculo qua oh merda no tenente morale sono non tenente morale sporca merda nabbo 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 che nabbo di merda ragazzi mamma mia porca puttana non ho mai visto gente così nabba ti stai divertendo in modo incredibile comunque controlla una cosa Spini ricordati controlla assolutamente le memorie quanto hai di memoria massima se no ti dico come fare per poterla fare dopo che hai giocato allora guardaci perché è importante e dove si va a vedere e adesso aspetta che tanto parte in partita allora ti interessa fare la sub cioè 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 la sub sai che tanto parte ho fatto fare il mese scorso abbonati cioè io non ti obbligo sicuramente però se ti interessa ah per darti una mano ok adesso poi vediamo te mettimi in cose così almeno ah sì 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 dovrei dovresti essere no non credo non lo so dopo ci ci metto ricordamelo come si fa allora per vedere stavo vedendo allora se te vai in risorse del computer si ok provietta ok lo puoi vedere anche di qua sì infatti allora se te vai in il mio computer se sai Windows 10 un attimo un attimo sì c'è Windows 10 ok se te vai questo questo pc tasto destro su riconcina questo pc fai proprietà ti dice tutto quello che devi sapere del tasto destro no tasto destro proprietà ti dice esattamente la rama installata sistema la chiave di Windows ti dice tutto il processore ti dice praticamente è tutto quello che c'hai no io se premo il tasto destro c'è te 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 sì se tu c'è il tasto destro c'è l'unione e altro ti per questo file aspetta non ho visto Aaaaaaah cazzo Perfetto è morto Perfetto è morto Perfetto è morto Allora processore intel core i7 Memoria installata pirammi 16 giga Allora adesso se hai 16 giga Devi fare ci sono dei programmini per verificare il tipo di memoria Cioè non tanto che tipo di memoria c'hai bensì Quanto è messa bene Adesso mai ci danno stop a trattarvi Ora finisco la streaming Sì sì finisci dopo Anche perché ti ci vuole del tempo No 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 Uno di uno no Eroi misteriosi Perfetto è morto Con l'amore Viva Facciamo tre tank Un miller Un staff force Un defensa Che f***o Porca puttana troia bastarda Me l'ha data adesso Quando non mi serviva un cazzo Me l'ha data adesso quando non mi serviva un cazzo Questo potere di coriame sarà messo in ginocchio Hmm bella idea Sì il problema è che Nico il problema è che mi devo vedere come sanno giocarlo No dicevo A un mio amico che ha scritto in chat Ah Io pensavo che dicevi ciò a me No Ah ti chiami Nicola Bene Grazie a tutti oh che culo nessuno può ferlarmi conversione di film presto mia è l'unica vera via è un altro passaggio c'è l'unica l'unica c'è l'unica l'unica merda merda e merda e hanno ribaltato la situazione cazzo guarda come mi segue cazzo cazzo hanno tutti i tank c'è due basti andi tutto no ma cosa mi viene a restare pazza io boh non lo so la fortuna ci ha baciato solo nei primi 20 minuti di partita merda merda cazzo no è che è morta ma stai resistendo un po troppo sulla brigitte e mi ha pure ti è beggato sto figlio di puttana ah si brade un applaud un brigitte io ho fatto un lost game cosa what ho fatto la piotg io no non è possibile un bug un bug un bug un bug un bug non è possibile no non è possibile non posso aver fatto io la piotg vabbè grande diavolo grande diavolo grande diavolo è questa si vabbè per me e si per me il il c il 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 Ok Cazzo se c'è il secondo tank ci poteva inculare a sangue Perfetto Porca troia puttana Oh corruzione Oh grande grande avete levato quella troia di cosa Oh sparacciodini Perfetto 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 La tua morte sarà straziata ok eccellente ok ah c'è ok è arrivato un'altra persona adesso non posso farla di te no no ho vinto un altro hosting di 72 persone solo io c'ho un culo proprio della madonna e anche oggi mi ha ossato ok stanno arrivando tutti yeeeh meno male anche ieri ho un culo che si fa paura allora un attimo ragazzi devo invitare questa persona ma ah ma ne ho 83 persone 8 60 ho fatto ho fatto la bomba oggi oggi ho fatto la cazzo di bomba beato te eh sì e vengo così sempre fenice devi passare intanto saluta 69 te ne mancano te ne mancano quante sei sei spettatori live per fare 4 y not 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 bot ti sta ospitando ok allora cerca spini 17 spini trofino basso 17 e ti posso approvare che ci siano veri è bravo ora sono in 47 in lì a suo export prova io sto facendo la live vuoi dire esatto e ci sono parelli spettatori no perché ci sto massando no più di questo che problema aria aria mi riguarda il canale fitch eeeh intanto ci sono persone che lo stanno guardando ora siamo in 18 e qualcun altro mi sta stupendo dai vieni vieni l'invito su Twitch si ho trovato ma tanto io la lore l'ho già ascoltata si bella si bella qualcosa facendo questo facciamo quella diversa quella per i nabbi per che qui sono degli eroi levati viva non l'han presa 27 spettatori 21 cazzo fanculo ho premuto E invece di R come ti sei fatto da da solo poverdo eh? ti posso far del danno da solo ho premuto E invece di R ah un culo figlio di troia quanta vita cazzo guarda ok c'è un porto cazzo Anzo fa veramente male occhio 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 perché non fanno di Twitch questi? anche da dietro occhi c'è un tropper cosa sta succedendo? ma non doveva scadere ieri? grande sparacchioni grande sparacchioni ok buono 18 persone ci stanno bene 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 benissimo oh oh si sono calati 18 pazzi vedo eh vabbè 26 cerca soltanto di vincere sta partita 17 è uno sbalzo ogni tanto da quel lato oh di no sono andato addosso è stata la partita numero 1 pure grazie madonna 25 spero di ascoltare i spettatori pensa la partita beh sto giocando nel me oh c'è l'assassino oh ragazzi quando l'assassino inculpisce una persona devi tirargli un pugno così la mandi via prima andiamo oh ok andiamo andiamo via non fustusciare ci abbiamo riso perché io non sono un tanker non vuol dire che ti devi far ammazzare ma troppo non mi ammazzano nessuno ma 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 oh no c'è l'ivy sto attivando sei la prima persona che io sento pronunciare ivy in maniera corretta senza una mia correzione complimenti ahah ahah che malone ok buono andate ma che cazzo c'è qua fuori l'esercito l'esercito l'avevo calciato subito assumetene il controllo per attivare il protetto ah mannaia ma e tu che ti sei venuto a portare cosa eh moira guarda che è forte almeno in questa composizione guarda che fa miracoli ovvio ma io non ho mai capito mai di di dov'è del messico oppure lei ma che cazzo dici inglese è inglese si americana è americana boi ma cosa c'è il nome ma cosa c'è il nome ma magari oh mio dio ho sprecato l'ultimo di fare un puglione non mi divertivo così tanto a far fuori dei robot dall'epoca di team fortress si tutte le epoche team fortress vabbè pure tranquillo sto cercando di curarti al massimo che possa senza esaurare la carta è il mio eccolo eh si qualcuno va vai di sopra vai di sopra con cittadini soldati bravo soldati ce n'era uno eh erano tanti quando li avevo visti io perché ha usato la usb una parte perfetta dai speriamo che anzo faccia fuori quel funissimo il nostro anzo fa cagare e invece no e invece no in realtà è bravo come l'ho detto faccia prima no lei me la spudo overkill per tre persone raga tre ultimi per una persona e allora siamo un po' pazzi attacchino vedi tigli un pugno e si lega eccolo un altro hosting più tardi mi spieghi cosa vuol dire qualcuno che lo ospita cioè qualcuno che li fa vedere in giro il canale figo tiratemi un pugno tiratemi un pugno un altro con otto spettatori grazie ecco è sboccata il pop up ma ma 30 spettatori adesso se si divertono io non mi faccio più bene ci guardano pure quindi perché non hanno di meglio da fare eh mi fanno guardare eh vabbè meglio per me eh meglio se vincere dai mi rende 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 no oh venite qua con me ma dove vedi qui te no venite dietro è arrivato lì ma va dobbiamo andare un spawn a lì lo sapete no rengheide rengheide ma è pattuto ha lo spawn dell'unità pesante fra un po' perché adesso non so quanto ne sia conveniente ma l'ho fatto pure io vilar è faticoso nel mio tante ore con Lucio dove va quello definisci quello vedi ma fa il culo ma la possibilità infinita lol buona 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 dai voglio aversi mi aspetto di no ah è vero che di qui io sono qua sono stato per curarmi fai il culo fai il culo ma tu che frecca la ulti a caso non farti domande le stiamo cagando le ultime oh mi so che le stiamo cagando fra un po' uccide di anche l'assassino serio? si gli hai dimensato la vita minchia porca troia ma tu ma fai niente sei ancora in vita pure pure grazie saliamo sul soffitto attimo guarda ah ecco perché la pittana quella è l'allarme che sono poco ci siamo ecco ma giustamente mi ritorna un spistatore no cosa? magicamente ma mi ritorna un spistatore ma no ragazzi qualcuno salvi quel fottuto anzo deficiente sperava di fare delle buone oh sono primo in tutto con la mia damage taken strano che si primo in tutto con tutta la volta che ho dovuto curarlo appunto in danni subiti solo primo io io danni subiti zero mi sa che abbiamo qualche problema di fondo arriva l'assassino colpisce con un pugno ah beh erito quello stonato gli altri non lo sanno vabbè buono 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 opps certo gli hai lasciato in braccia ma poi risa che problemi ha due allati fuori gioco sono attaccato solo io di tipo what? cosa? taccio pure aiuto al nostro alleato sono portato il globo che ti sta atturando fatelo abbassare fuggio oh madonna ho proprio bisogno di un po' di cioccolata in questo momento non possiamo pensare la cioccolata e poi io non la mangio perché c'è visto che mi viene un po' di daveto guarda che ti aiuta quello fondente fondente al 99% esatto ora fate anche voi chimici roba chimica vorresti dirmi che tutto quello che esiste non è roba chimica da una parte è vero mangiamo solo roba chimica grazie al cazzo tutto è roba chimica senza un pilota questo protettore non grada a nessuno anche i muri sono roba chimica cosa vuol dire cosa vuol dire cosa vuol dire anche i compi ma anche i compi robot e vengo il computer sono roba chimica costituzione no abbiamo vinto eh sandro abbiamo vinto tutto quello che esiste è roba chimica che è composto da atomi e molecole e roba chimica baci tranquillo oh ecco lì oh allora comunque ci abbiamo provato è stato bello sì che è durato è manco nel governo 120 km comunque il diablo è stato munito porca la mignotto dove cazzo è Livi è morto serio? sì così velocemente sì a parte che ho fatto la ulti poi anche ho fatto la ulti tanto vale farla leggendaria in effetti io col cazzo dovevo andare a animare quell'anzo rianimare l'anzo ah Riky col cazzo io mi levo dei coglioni vai io mi levo di qui URISA spinni vado nell'altro canale ci vediamo buon apposicimento ciao ciao e si l'abbiamo ok e è andato alla grande e vai grande nico potresti anche entrare nico così si fa un po di casino insieme tutti insieme appassionatamente sì ho visto che sei in partita 17 minuti bene il grande piccolo lumunde meno male li ho fatto prendere mura di nico se no se no sarebbe stato veramente traumatico allora matteo dorme molto tra l'altro matteo dorme e molto anche aveva un problema che ralentava tutto il gioco tutto quello che lo streaming cioè praticamente gli pesava tutto no non c'è un motivo nicola te devi venire sempre anche se c'hai qualsiasi cosa te vieni giochi e basta a parte gli scherzi comunque ti dicevo e quindi praticamente il problema maggiore è che non riusciva più a giocare perché si frizzava ogni tre secondi il gioco però io mi sono accorto io ho fatto di diverse streaming e mi sono accorto purtroppo che la ram era importante ne usavo quattro invece che sedici sì abbiamo cercato in tutti i modi di di rendere la partita più difficile in modo tale che era più appassionante cioè c'era più persone che stavano stavano a vederla perché dicevano guarda quei coglioni come giocano di merda esattamente comunque se non ci fosse stato muradi anche per gli stun e tutto il resto sicuramente se avesse presa il macellaio lo avremmo vinto con giovanna è una menata quello se non c'è il doppio tank è un casino la cosa divertente è stata anche la mini mappa che mi ha praticamente ho puntato sulla mini mappa sono andato a prendere l'altra parte quindi due volte quasi ero morto allora aspettiamo tanto matteo 19 minuti solo che se non aspetto so già che poi parte subito quindi allora è inutile vabbè guldan mi ha salvato le chiappe come sempre perse partite a cazzo veramente porca troia classificazione di merda tutto buono si può togliere? quello mi interesserebbe sapere come perché sono morto diverse volte anche in classificata per il un clic su una mini mappa perché mi ritornava indietro il il pg e ci moriva come un pir quello mi interessa se me lo dici guanna è una buona cosa non ho prende idea cazzo Tanta roba Tanta roba hoof e quelle le opzioni di gioco allora che immagino è qua anlooo iscriviti al nostro canale si devo solo trovare l'impostazione bene abilità riverbero pausa tastiera ma si può anche aumentare il puntatore per windows xp va bene disabilia alt più tab disabilia di testa di windows no, quello no, quindi sai tante volte ok? 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 grazie grazie sì comunque non ci l'ha spiegato bene anche loro però grazie Sandu mi hai aiutato almeno non ci vado a cazzeggiare nel tasto destro o qualcosa a buon rendere ma anche te streami Sandu oppure visualizzi solo gli streamer? allora aspettiamo tanto Matteo come giocano classificati gli ho detto di aspettare vabbè ho capito vabbè ho capito si posso fare anche qui che drago tanto basta che mi cerchi su con Garconda ci sono devo fare l'ultimo ma che poi dopo c'è un appuntamento però spero sì aspetta un momentino allora vabbè lo vedi direttamente dalla streaming? perché ce l'ho da sopra almeno quando si apre la porta ok perfetto facciamo prima mi ricordavo che si visualizza mi ricordavo che si vuoi mi ricordavo che si parla mi ricordavo che si vabbiamo ma il experience si comunque non mi ricordavo più che si poteva vedere dietro a letto allora oh c'è cosa che gioca c'è Spine che gioca overwatch quando ci sei dentro Dimo immagino che siete i Espen è giusto Drago? ok ecco l'inizio ecco l'inizio vabbè è uguale anche se non puoi usare la voce a massimo scrivi allora non so se questa qua sarà la mia ultima perché tra poco poi dovrò uscire quindi devo vedere un momentino le orarie pa 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 allora che abbiamo di bello ah ricordati di prendere le poze è che tutti non prendono le cazze di poze di Decker perché sono importanti purtroppo allora Giovanna e Artanis sarà da divertirsi speriamo bene che Giugini non ci faccia ammazzare con un pillo perfetto calma eh si carica tranquilli caricamento più lente del mondo allora allora va bene preparate le chiappe al combattimento studi bene sì sono io e ancora una volta troverò il modo di sconfiggerti spero che siate pronti ci mancano dieci secondi 5 4 3 2 1 1 2 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 Non è che mi salgo molto, che mi file code, no? Ma che va suona, madre, che passione. Mi ha rotto il cazzo questa torretta di merda, eh. Venite, venite. Presa. In top non c'è nessuno, in botte non c'è nessuno, vabbè. Non c'ho più ma è una porca troia, porca troia. Troppa gente sopra, troppa gente sopra. No, è bagliato, vabbè. E' nessuno che prende le pozze, porca troia, è una cosa in precedenza. Cocane, porco. Grazie, meraviglioso. Eh, non posso pagare un cazzo. Porca bagascia, troia. Dai, 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 e caricati quel cazzo di mano, quanto ci vuole. Mi ha mancato solo la pubblicità, porca troia. Però non cazzo poi... Non cazzo? Pura sconderita. Grazie a tutti. Porco cane. C'ho 40 pozioni. Oh, che si vede? Merda, si è camperato. Oh, che si vede? Oh, che si vede? Oh, che si vede? Oh, che si vede? giocati tutti 21 seconda se non dobbiamo prendere qualche altare che altari sono sorti attivatevi ora attivatevi attivatevi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Porca troia porca Grazie a tutti C'ho tutto il tempo per fare una cosa Minchia 10 a 9 Dai caricati 2 ore perché ecco Grazie a tutti Non metete di di... ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ha rotto il cazzo sti affari Grazie a tutti E' un po' di mano lo stesso E' un po' di mano lo stesso Grazie a tutti E' un po' di... 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 mi ah che questo brrrrr Benissimo. Ok. Conclusa. E va bene. Ok. Era la mia ultima partita. Il tempo è quello che è. Ci vediamo dopo. Spengo la live.